Salve, anche questa settimana ci occuperemo della rassegna stampa sulla città di Nicosia. Leggeremo le varie notizie apparse su tutti i quotidiani e le riviste. Buona visione a tutti voi. La Sicilia del 3 settembre, doppio appuntamento domani in Piazza Garibaldi, un palco per la cultura e la danza. Il palco scenico di Piazza Garibaldi sarà domani sera la cornice perfetta per assistere in successione a due eventi speciali per l'estate Nicosiana 2011. Tra il senso critico della cultura e nel modo di esprimersi attraverso la danza artistica, in anteprima sul filo di una vicenda intrigante, Eugenia Romanelli, giornalista e scrittrice presente sul suo ultimo lavoro romanzesco dal titolo Vie di Fuga. Il noir che ha esordito e va per la maggiore su Facebook. Di seguito il debutto dell'Accademia di Ballo Passa 2, farcito di musica, ritmo e bellezza in movimento per uno sciocco aerografico fascinoso, guarnito e diretto dalla docente maestra Rosanna Miritello. Nominato il perito depuratore presto la perizia per il collaudo, l'assessorato regionale al territorio ed ambiente ha trasmesso ieri il decreto di nomina del collaudatore per il depuratore mamma figlia, si tratta dell'ingegner Nicosiano Felice Ugliarolo, che era stato indicato dal comune al quale l'assessorato aveva demandato la nomina dal momento che l'incarico viene coperto da fondi comunali. Formalmente, essendo l'assessore a firmare il decreto, il sindaco Antonello Catania per una questione di opportunità istituzionale non aveva ritenuto opportuno ufficializzare il nome del tecnico prima dell'emissione del decreto. E sempre per la pagina degli spettacoli e dell'estate nicosiana, oggi la riedizione del corteo storico con cavalieri sbandieratori, quindi la notte bianca si ripropone alla visita di Carlo V. Oggi uno dei momenti centrali dell'estate nicosiana con il corteo storico e la notte bianca. Il corteo storico che rievoca la visita dell'imperatore Carlo V alla città è giunto alla diciottesima edizione ed è ambientata nello splendido percorso che parte dal castello e attraverso i quartieri più antichi della città fino al centro. La sfilata di circa 300 figuranti con gli splendidi costumi partirà alle 17 dal ponte normanno del castello medievale e percorrerà le antichissime strade e vicoli della città vecchia fino a piazza Garibaldi. La manifestazione avviata alla fine degli anni 70 fino al 2009 si teneva due giorni prima di Ferragosto e la partenza del corteo avveniva da piazza San Francesco dove sorgeva una delle porti di accesso alla città. Il corteo rievoca la visita dell'imperatore Carlo V avvenuta il 16 ottobre 1535 quando incontrò i notabili dei rappresentanti della città prima di proseguire il suo viaggio verso Troina. La manifestazione celebra i fasti della città nel 1500 quando aveva il titolo di città de Maniale e Civitas Constantissima. Ed ora una notizia che preoccupa un po' in questi ultimi giorni, sciame sismico ieri lieve scossa, il fenomeno alle 3.36 da due anni tremori nella zona della faglia. Non si arresta lo sciame sismico che da circa due anni interessa la faglia di nebro di decine di piccole scosse quasi mai avvertita dalla popolazione, l'ultima registrata all'alba di ieri. La terra ha tremato alle 3.36, la scossa di magnitudo 2.1 è stata registrata dalla rete sismica nazionale delle linee NGV, risulazionale di geofisica e vulcanologia. È localizzata ad una profondità di 54 km. L'epicentro è sempre lo stesso, è localizzato tra Capizzi, in provincia di Messina e Cerami, piccolo centro ennese. Considerato con di così Sperlinga, tra quelli a maggiore rischio sismico. La Sicilia del 4 settembre e ritorniamo sulla questione del parco eolico. Valutate altre ipotesi di reato a breve per la chiusura dell'inchiesta della prura sulla costruzione del parco eolico. Giunchetto, le prossime settimane dovrebbero essere cruciali per l'inchiesta sul parco eolico. Giunchetto, l'indagine condotta dall'approcatore capo Fabio Scavone è stata aperta 11 mesi fa con l'ipotesi di inquinamento acustico e violazione delle norme ambientali. Nei mesi successivi, con l'acquisizione degli atti presso l'assessorato regionale per l'energia, si sono fatte strada nuova ipotesi di reato e l'inchiesta si è focalizzata sui possibili falsi ed abusi nelle procedure di richiesta e rilascio delle autorizzazioni e concessioni. Il riservo è fittissimo e non è stato reso noto se vi sono già iscritti nel registro degli indagati o se il fascicolo è ancora a carico di ignoti. Ed ora una notizia sull'opera di prevenzione da parte della Polizia di Stato, dal commissariato di Polizia di Nicosia in un mese 142 posti di controllo accertate 74 infrazioni, 13 denunce. Decine di controlli, denunce e perquisizione effettuate dagli uomini del commissariato di Nicosia durante il mese di agosto a tracciare un bilancio delle attività della Polizia di Stato nel territorio di Nicosia e il commissario capo Daniele Manganaro che dirige il commissariato nicosiano e fa capo ai comuni di Troina, Cerami, Cagliano, Sperlinga e della frazione Villadoro. Come spiega il commissario Manganaro, dal 1 al 31 agosto sono state ulteriormente intensificate tutte le attività di controllo, vigilanza, prevenzione e repressione dei reati in generale anche in considerazione del periodo di vacanza nel quale la circolazione delle persone aumenta esponenzialmente. I dati riguardano solo le attività svolte nel reparto volanti e non comprendono quindi le attività del nucleo di Polizia giudiziaria e delle altre sezioni del commissariato. Domenica 4 settembre a Piazza Garibaldi si è svolta la presentazione del libro di Eugenia Romanelli, Via di Fuga. Sono intervenute sul palco all'estito dell'amministrazione comunale insieme alla loro giornalista ed autrice del libro anche l'organizzatrice della serata Maria Teresa Lavia, web designer di Telenicosia, l'assessore al turismo e spettacolo del comune di Nicosia, Nabor Potenza è Rory Cappelli, giornalista e fotografo per i viaggi di Repubblica che ha lavorato per Carnet, Arte e Dossier, Panorama e molti altri settimanali e riviste nazionali ed ha vinto diversi premi giornalistici. Amante da sempre di viaggi e fotografie è riuscito a coniugare nel suo lavoro questa doppia passione. Rory Cappelli ha condotto l'intervista con la scrittrice. Chi è? Eugenia Romanelli. Eugenia Romanelli è redattore all'Espresso, poi direttore della versione italiana della rivista internazionale Time Out. Nel 2004 ha fondato la testata giornalistica nazionale Bazar Web, coedita da Raieri e La Stampa. Ha insegnato scrittura creativa e comunicazione alla Facoltà di Scienze della Comunicazione e della Sapienza di Roma. Oggi è docente alla LUIS, responsabile dell'inserto di cultura critica Smart Time per il fatto quotidiano e collaboratrice dell'ANSA. Tra le sue pubblicazioni, Conte Accanto, edito da Rizzoli, scritto a quattro mani, con Paola Turci. Sfide, edito da Giunti. 3.0, edito da Dino Audino. Solo per citarne alcuni. Di cosa parla Via di Fughe? Altro non è che un noir sulle nuove famiglie che ha esordito su Facebook. Il libro racconta le difficoltà emotive e giuridiche delle relazioni contemporanee esclusse da un inquadramento legislativo. Attraverso gli occhi della generazione dei trentenni e quarantenni alle prese con la realtà. Prima che nei negozi, il volume ha esordito sul social network con tre book trailer postati in rete su regia di Guglielmo Enea, nel primo del quale sono presenti, tra gli altri attori, la stessa autrice e Giulia Anselmi, noto giornalista e presidente dell'agenzia ANSA. La presentazione, avvenuta in un clima goliardico e molto particolare, si è soffermata sui vari temi trattati dal libro ed in particolar modo sulle cosiddette nuove famiglie composte non in maniera tradizionale e sull'opportunità di riconoscere anche a questi nuclei familiari un ruolo e i diritti delle famiglie tradizionali. E sulla Sicilia del 5 settembre, reso conto della manifestazione della Notte Bianca e del corteo storico, che ricorda la visita di Carlo V, tra musica e rievocazioni, è riuscita la Notte Bianca con un solo intoppo all'arresto di un romeno che ha aggredito i carabinieri. Bella e ben riuscita la giornata clou dell'estate nicosiana, è piaciuto il corteo storico che rievoca la visita dell'imperatore Carlo V alla città, ha proposto in una formula che riesce a valorizzare alcuni dei luoghi storici più belli della città, dal Castello Mielevale al quartiere Santa Mari Maggiore, dall'elegante piazza Garibaldi ai corsi principali della città che per la tipica pianta urbanistica consentono un percorso ad anello tra palazzi e chiese. Concluso il corteo ricco di figuranti, musici, sbandieratori che hanno realizzato uno spettacolo gradevole e ben riuscito e partita la Notte Bianca con tanta ottima musica. Tra il 3 e il 4 settembre si è svolta a Nicosia la Notte Bianca in concomitanza con il corteo storico che rievocava la visita di Carlo V in città nel 1535. Enorme la presenza dei nicosiani ma anche di visitatori provenienti dai paesi limitrofi, un successo che ha confermato anche quest'anno la buona organizzazione. Diversi gruppi che si sono esibiti tra le vie e piazze cittadine. A piazza Garibaldi alle 22.30 si sono esibiti una razza e una faccia. A seguire a piazza Veutro alle ore 24 music live. In via Frelli Testa alle ore 24 Vince Licciardo rock'n'roll band. In via Roma sempre alle ore 24 i Trambusto e Popcorn che sono una cover di Liga Bue. In via 4 novembre a luna e un quarto a Zama Band. In via Vittorio Veneto alle ore 23 Free Band. A tal proposito abbiamo un filmato di cui ringraziamo appunto il videomaker Angelo Carciola per averci fornito il video di John Do e Pippo Barrile live a Nicosia con il brano Mocarta, una cover dei concerti del 1985 appunto di cui Pippo Barrile era la voce solista. A Piazza Garibaldi alle ore 24 i Trambusto e Pippo Barrile. E' sulla Sicilia.